Vetrina nazionale per Agostino Pilotto, DJ Saccense che sarà ospite da lunedì a venerdì prossimi del Provenzano DJ Zoon. Nota trasmissione radiofonica in onda tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 su M2O, emittente che ha sede a Roma, tra le più note in Italia di musica densa elettronica. Un sogno che si realizza per il DJ Saccense. Esordisco dicendoti se è un sogno non svegliatemi. Il sogno di una vita. Finalmente sono riuscito ad approdare, anche se appunto solamente in un breve periodo, quindi solamente una settimana, sono riuscito a approdare a M2O che è una delle più grosse network insieme a Radio DJ 105, Monte Carlo insomma. Farò il Resident per Provenzano DJ Zoon, che è una trasmissione appunto condotta da Merigo Provenzano, un noto DJ di M2O dai tempi, e andrà in onda anche in streaming, quindi sui vari canali Facebook e compagna bella. Come se vedi sono ancora molto emozionato perché non ci credo sinceramente, ma è vero, è vero perché ci sto lavorando, sto lavorando sui brani da dover inserire, sto cercando di fare il più possibile, nel miglior modo possibile, proprio perché sento molto il peso della situazione in sé, quindi vorrei fare una bella figura anche per... mi sento un po' colui che sta esportando qualcosa qui dalle nostre zone, quindi ci tengo un po' per tutti, ecco, fare un'ottima figura. Da lunedì a venerdì avrai a disposizione mezz'ora, che musica metterai? Sì, avrò a disposizione mezz'ora perché naturalmente all'interno della trasmissione ci sono tutta una serie di altri ragazzi che devono suonare, comunque sia c'è Provenzano che fa il suo set. Allora, io ho preparato tutta una serie di sequenze variegate nel genere, quindi partiamo dalla... quello che può essere la situazione un po' più deep per andare a finire alla Psy-Trends, insomma. Cercherò di toccare tutti i punti salienti che al momento il panorama dance offre. Ho voluto... ci credo perché è una cosa realmente bella. Ho voluto inserire i brani di tutti i miei copaesani, naturalmente quelli che sono usciti ufficiali. Credo che sia giusto, quando c'è la possibilità, poter promuovere la nostra terra e i nostri talenti, che comunque ce ne sono veramente tanti. Qualche esempio? Allora, esempio te li cito tutti. Ho un mio carissimo amico che è un fratello, si chiama Rino Sparacino, che al momento è andato a lavorare a 105, e da lui ho inserito due brani. Quello di Esteban Galo ho inserito, quello che ha vinto al Music Award, poi un brano dei Dirty Old Boys, che sono Enrichetto e Daniele Ciancimino, poi ho inserito Cal Fire, ovvero Calogero Bono, spero di non dimenticare nessuno. E poi vari big come Vincenzo Callea e Compagnia Bella, che sono tutti dei grandi amici miei, quindi li ho messi pure nel carrello. Fare DJ non è un hobby, ma è un lavoro, hai puntato tutto su questo. Sì, momentaneamente ti dirò che è un lavoro. Spero di togliere questo momentaneamente, e quindi dirti sì, è un lavoro. Naturalmente è tosta, perché nelle nostre zone, si sa, mancano le strutture, e siamo sempre un po' più svantaggiati rispetto a quello che è il Nord.